15 anni dall'arrivo del contatore elettronico, è tempo di lasciare spazio alla seconda generazione. Il piano di sostituzione di Open Meter, così è stato nominato, costerà all'Enel 2,7 miliardi, di cui 1,3 miliardi per i primi 13 milioni di contatori da cambiare entro il 2019. I lavori saranno realizzati da circa 250 imprese esterne, interessando complessivamente 4.000 tecnici l'anno. Non ci saranno invece costi aggiuntivi in bolletta per i consumatori, secondo il protocollo previsto dall'Autorità dell'Energia per l'operazione. Il nuovo contatore di seconda generazione sarà un aiuto formidabile per il comportamento efficiente, per l'efficienza energetica dei cittadini, famiglie ed imprese, perché consentirà loro di conoscere la propria impronta energetica, quella che noi chiamiamo in gergo Energy Footprint. Quelli che sono i consumi orari, addirittura quarto d'orari del giorno prima, saranno disponibili al cliente finale. Per cui il cliente potrà avere tutta una serie storica dei propri profili giornalieri, sulla balese del quale vedere con dei semplici audit energetici quali sono i comportamenti da modificare, ma addirittura gli investimenti da fare per migliorare il proprio consumo o profilo energetico. Quindi il contatore di seconda generazione non solo aiuterà il cliente a capire come sta consumando in quel momento, ma consentirà al cliente di migliorare, diciamo ridurre, il consumo della propria energia a casa sua, nella sua efficina e quindi il comportamento di efficienza energetica. Discutere di contatori intelligenti è affrontare uno degli aspetti centrali della SEN, su una transizione energetica che veda sempre di più al centro la responsabilità e la scelta, la consapevolezza dei consumatori, che oggi sappiamo anche essere produttori di energia. La digitalizzazione e l'innovazione tecnologica sono dei vettori fondamentali per giocare al meglio la partita di una nuova strategia energetica nazionale, sostenibile e capace di rispondere agli obiettivi di sviluppo del nostro paese. I meter 2.0 misureranno i consumi ogni 15 minuti e forniranno profili aggiornati per un totale di 7 mila miliardi di dati ogni anno. Il nuovo contatore elettronico 2.0 promette bollette più puntuali e precise, oltre a risparmio di elettricità e alla possibilità di accedere via web o telefonino allo storico dei loro consumi nei sei mesi precedenti. Ma al cliente, al cittadino cosa interessa? Interessa avere i dati del suo consumo e dei prezzi che sta pagando l'elettricità, interessa averli a disposizione giornalmente, interessa farsi di poter accedere alle migliori offerte dei vari concorrenti in qualsiasi momento. Quindi il legislatore cosa deve fare? Deve garantire che tutti gli operatori abbiano uguali potenzialità, possano concorrere nella maniera più equa possibile. Quindi gli standard di comunicazione devono essere aperti e non ci devono essere, come sempre, come spesso accade, privilegi ingiustificati, oligopoli ingiustificati. Quindi su questo noi staremo attenti a far sì che i miglioramenti tecnologici che ci sono e vanno sfruttati perché possono consentire effettivamente dei buoni risparmi, ma siano resi disponibili a tutti nella maniera più equa possibile. Quindi su questo abbiamo dei lavori da fare e lavoreremo per avere un mercato il più possibile aperto per tutti, senza privilegi ingiustificati.